l'ambiente ci fanno anche complimenti perché ci dicono ma come fate a tenere così ordinato è tanta fatica albergatori abbandonatevi al ritmo della natura comincia quattro tel no non c'è se non mi tocca dormire con la mia giacca rossa l'armadio ampi spazi di miglioramento vediamo il bagno io c'ho già quella roba mi sento a mio agio